Si sono messi subito a lavoro ieri i manutentori e il geometra dell'ospedale Luigi Curto di Polla per riparare i danni causati dalla caduta di un pezzo di polistirolo al secondo piano del nosocomio. All'incrocio tra i reparti di neurologia e geriatria, infatti, a causa delle infiltrazioni d'acqua dovute alle piogge degli ultimi giorni, un pannello di polistirolo espanso che riveste il soffitto si è sciolto, inzuppato d'acqua e umidità. E' così venuto giù assieme a Dell'intonaco nella notte tra sabato e domenica nel mezzo del corridoio, per fortuna senza creare conseguenze a pazienti e operatori sanitari perché nessuno si trovava a passare di lì in quel momento. La vicenda però, se è esemplificativa dello stato in cui versa la sanità campana oggigiorno, si può quasi definire annunciata, visto che proprio qualche giorno fa i sindacalisti della CGL Funzione Pubblica, Capozzi, Pistone ed Alessandro, avevano scritto a Caldore Squillante per lamentarsi delle condizioni igienico-sanitarie del presidio pollese e denunciare il mancato inizio dei lavori di adeguamento strutturale e funzionale, promessi dopo il passaggio di alcuni reparti da Sant'Arsenio a Polla, messi in gara ma ancora non avviati, a differenza di quanto accaduto in altri ospedali dell'Asla Salernitana. In realtà i lavori in questione non prevedevano interventi sul soffitto ma le due vicende a distanza di pochi giorni l'una dall'altra fanno pensare alla necessità di una maggiore attenzione all'ospedale di Polla come ad altre strutture di importanza pubblica. Il direttore sanitario di Luigi Curto, Nunzio Babino, tuttavia frena su certe conclusioni affrettate. Questi allarmismi non fanno bene, ha detto, il danno è stato la conseguenza di normali traboccamenti dei canali di scolo che avvengono anche nelle abitazioni private, perciò non bisogna strumentalizzare. Certo è però che come ogni abitazione privata anche l'ospedale ha bisogno di regolare manutenzione e in alcuni casi di ristrutturazione. Per il momento il pannello è stato sostituito ma la domanda sulla possibilità di altre infiltrazioni resta aperta.